Oh calmo, c'è scritto qua, Suri deve presentare No io leggo Suri se deve levare al cazzo e deve andare a Dubai Perché il tuo posto è quello In questa miniera Dai cazzo Gianluca Qualcuno vuole un tiro dal pubblico? Io l'ho già fatto Nessuno? Nessuno? Un volontario? Secondo me è Mario, l'intuido Vabbè nessuno ragazzi No, no, no Allora Per la gioia di Ivan Grieco Oggi gli tocca presentare una pool streamer Cosa ne pensi? Ma non avevi chiuso il canale, scusa? No, non è chiuso Scusate signori di Twitch, potete bannarla per cortesia Ma rispetto alle regole Ivan Vabbè giusto Sono contestualizzata Ivan E tu lo sei Io sono contestualizzabile Io penso di essere un po' di troppo Ciao bro Adesso penso che siamo pure davanti al cazzo Grazie, grazie mille Grazie Cristale Un applauso Un applauso Un applauso Prego Un applauso Grazie può abbandonare Grazie a Dede che l'ha recuperato Non si sa dove A tutti qui capito Ma io ti giuro che Posso dire una cosa? Voi siete delle calamite per i casi umani Nooo! Ma è una cosa gravissima Me lo dice ogni giorno anche mia mamma Ecco appunto Grazie Dai Hai più sub di me Davvero? Sì Tutto meritato Eh lo so, lo so Sono d'accordo Qui parliamo di un membro integrante Di una testa che è sbucata dal trio Una testa che è diventata la quarta testa del Cerbero Podcast Ah è già qui Grazie a Dede